Mancano medici ed infermieri all'ospedale Umberto I di Nocera in cui reparti chiusi per i contagi Covid viene in ogni caso garantita l'assistenza ai pazienti mentre restano sospesi nuovi ricoveri. Stamane riunione operativa tra il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio e quel che resta degli operatori in servizio che non risultano contagiati mentre continuano gli screening tra tutto il personale dell'ospedale Nocerino. Quando riguarda alcuni reparti che sono stati interessati da qualche focolai con personale che si è contagiato abbiamo cautelativamente sospesi i ricoveri. Al completo invece il Covid Hospital di Scafati dove sono occupati tutti i posti letto dei tre reparti solo quattro i posti occupati invece in terapia intensiva mentre si sta lavorando all'apertura di un terzo reparto per 14 nuovi posti letto. Del personale medico perché probabilmente apriremo anche l'altro braccio altri 14 posti e quindi noi abbiamo completato quello che in effetti era stato comunicato e confermato dal piano regionale per la fase C per la fase C di tutti i posti disponibili per Scafati che si associeranno a quelli di Agropoli. Credo che pure Agropoli a breve aprirà la parte di quota quindi per un totale intorno ai 110-116 posti. Credo!